Wai ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo nella vaniglia e ragazzi come sapete come avete visto anzi dal video precedente è andata un po' male perchè non so come mai non si vedeva non si vedeva l'inventario non so perchè io ho registrato normalmente ma non si vedevano boh si ho trovato dei tantissimi, tre pecore che poi ho ucciso per fare queste cose e qua sotto ho trovato una caverna che volevo esplorare oggi insieme a voi che è qua sotto eccola oh muori paula non mi puoi spuntare così dal nulla però cioè dai non è giusto farmi venire gli infarti allora prendiamo quest'altro ferro e prendiamo un ancora guardate quanto ferro che c'è che benessere che benessere che benessere ci dobbiamo fare full ferro subito che così siamo belli pronti alla battaglia contro eventuali squeletri come questo qui non ti devo dare per farti crepare tu citti cioè gli scheletri cittano cioè non possono avere tutti questi cuori dai non è giusto allora facciamo così tac dai datemi altro ferro ok che bella caverna questa bellissima cioè wow è possibile che ogni volta che genero un mondo trovo delle caverne strabilianti cioè non è normale vabbè beh non si può dire che non sia meglio cioè meglio così però va bene prendiamo sto ferro tac 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 buongiorno stai calmo però ah ma buongiorno anche di qua c'è roba bene allora siamo a full ferro con il ferro che abbiamo adesso quindi top ok prendiamo quest'altro ferro ah si ho ucciso pesci in quantità industriale per avere un po' di cibo dato che tipo nel lago qua davanti c'è ci sono troppi pesci non so manco io perché quindi prendiamo tutta sta roba tac ferro come se non ci fossero domani tac il problema è che fra poco finisco il carbone cioè o meglio finisco le torce non il carbone il carbone c'è il carbone qua allora facciamo così tac come scende bene questa caverna mi piace tantissimo che bella è la caverna che belle le caverne in questo modo che scendono brutalmente mi piacciono lo fai così prendiamo a prendere lo zombie che anche se è asparato per dettagli io devi morire allora mangiamo un attimino perché se no ci capiamo malissimo grazie ok bene qua c'è della lava ok buono ah c'è proprio ah siamo andati ho visto bene oh oro non era quello che avevo visto però va bene l'oro ci piace oh ok purtroppo non ho secchi d'acqua quindi nulla da fare ok facciamo così la redstone si dai la prendiamo per il momento tanto non ne abbiamo manco una prendiamola prendiamola un po' prendiamo anche st'oro perché ci facciamo delle mele d'oro tac 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 ole ah in questo video volevo fare miniera nel prossimo che penso sarà martedì prossimo nel prossimo video vorrei oh yeah ok nel prossimo video volevo fare dove volevo trovare una zona per fare la casa perché come sapete c'è bisogno di una casa oh 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 where are you no che ci crepo che ci crepo che ci crepo che ci crepo ok sono ancora vivo sono ancora vivo per miracolo aiuto scappa 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 che c'ho tre cuori sono troppo spericolato quando gioco a minecraft mamma mia l'unica fortuna è che ho la keep inventory quindi no problem però eh oh comunque potremmo trovare già i diamanti eh volendo cioè o meglio se riusciamo si perché l'altezza è quella lì e lo sapevo io ma perché sei esploso ma ero a 20 oh diamanti raga però c'è un enderman diamanti yes uno due tre però sotto non mi fido ok sotto non c'è nulla perfetto no aspetta non ha senso fare così ora facciamo una bella cosa va oh alleluia prendiamo sti diamanti subito sei diamanti yes che bello oh altro oro yay bene ci possiamo fare già penso almeno una merador ce la possiamo fare di sicuro 11 d'oro sì ok benissimo e abbiamo anche il titolo clickbait yeah che bello allora là c'è un creeper che non voglio affrontare per il momento tra l'altro abbiamo finito le torce quindi direi di tornare a casa però prima voglio prendere questo ferro così poi lo andiamo a smontare ci facciamo tanto altro ferro ok perfetto carbone dai prendiamo un po' di carbone che effettivamente sopra praticamente sto usando solo carbonella per smettare il roba quindi prendiamo un po' di carbone che è sempre utile il carbone tac 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 prendiamone tanto ok penso che questo carbone qua basti perché almeno con questo carbone poi ci possiamo smeltare la roba quindi va bene lo stesso però devo alzare il volume del gioco eh allora ritorniamo a casa allora quell'enderman ancora mi da dettagli vabbè dai ci ha fatto un piacere ci ha fatto da teleport quindi va bene lo stesso ma guarda quanto fanno male per gli enderman non pensavo facessero così tanta dolore allora qua abbiamo un botto di charcoal e quindi dobbiamo mettere 6 per smeltare questo qua e invece per smeltare questo ne dobbiamo mettere 2 ok poi mettiamo l'altra roba inutile a posto che non ci serve ok ci facciamo un arco anche magari allora uno due tre tac 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 ok allora poi direi di mettere tutto a posto l'arco è già qua le frecce ce le prendiamo e ci facciamo un bel piccone che secondo me e mi è crasha e mi è crashato minecraft a caso va bene va bene ok perchè mi è crashato ahhh mannaggia la miseria devo riavviarlo allora c'è stato un grandissimo salto temporale e mi sono ritrovato dove eravamo all'enderman no prima di morire dall'enderman e poi sono ritornato qui ho messo già le robe a smeltare ho fatto già il ping con il diamante e quindi ragazzi per me l'episodio può finire qui dopo svariati crash della pre 2 ce l'abbiamo fatta quindi ragazzi da PSM se è tutto vi ricordo di lasciare like un commento iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram e su Twitch link in descrizione e attivate la campanella per ricevere un fit di camo e da PSM se è tutto bye bye seguitemi davvero su Twitch perchè se tutto va bene le mattine tranne i sabati e le domeniche faccio le live su Twitch la mattina dalle 10.10 alle 12.30 bye bye